Ciao tifosi del Milan! Oggi vi portiamo una voce che sta scaldando i corridoi del club, Massimiliano Allegri potrebbe tornare alla guida. Esatto, secondo quanto riportato da TuttoSport, sembra che le elezioni della scorsa primavera possano portare una grande svolta per la nostra panchina. Ecco i dettagli. Allegri, che è stato già nostro allenatore e molto conosciuto per le sue strategie acute, sembra essere aperto a tornare al Milan. E non è tutto. Preferirebbe una soluzione qui a Milano piuttosto che accettare proposte dall'estero o da altre parti d'Italia. Un punto interessante è che il nostro gigante Ibra è già stato allenato da lui e conosce bene il suo stile. Questo potrebbe essere un grande punto a favore del ritorno di Allegri, portando una familiarità e una dinamica già testata e approvata alla squadra. E voi, cosa ne pensate di questa possibilità? Allegri è il nome giusto per riportare il Milan in cima? Lasciate il vostro commento, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Vogliamo sentire la vostra opinione, tifosi!